La scorsa notte, nel carcere milanese di Opera, il boss dell'Andranghe da Giovanni Teagano, 82 anni, di Reggio Calabria, era detenuto al 41 bis perché ritenuto al vertice della cosca del quartiere Archie. Era stato arrestato nel 2010 dopo quasi 17 anni di latitanza. Detto l'Ussedru Tegano, con i suoi fratelli, è stato protagonista della seconda guerra di mafia che ha insanguinato la città dello Stretto dal 1985 al 1991. Assieme a Giuseppe, Pasquale, Bruno, Paolo e al defunto Domenico, il boss ha sempre orbitato nella sfera di influenza mafiosa della cosca de Stefano, come testimoniano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e numerose vicende giudiziarie. Sono stati anni in cui, secondo gli inquirenti, Tegano avrebbe ordinato numerosi omicidi strategici nel contesto della guerra di mafia e per i quali è stato condannato all'ergastolo nei vari stralci del processo Olimpia. E' stato coinvolto anche nella max inchiesta antimafia come De Stefano più 34, denominata D-Day con la cosca Iamonte e Valanidi. Più recentemente è stato coinvolto nel processo Meta, ma la sua posizione è tornata indietro dalla Cassazione e dalla DDA. Lo scorso ottobre gli aveva notificato un nuovo avviso di conclusione e indagini. Per gli inquirenti, già a 30 anni, Giovanni Tegano aveva raggiunto un'autorevolezza tale nella malavita organizzata da essere ammesso ad un vero e proprio conclave di capimafia. Per comprendere la figura del Bostiarchi è necessario rileggere i vecchi fascicoli. Tegano era un pezzo da 90 dell'andrangheta reggina già dal 1969. Allorquando, scrivevano i magistrati, nella richiesta di rinvio a giudizio del procedimento contro la cosca De Stefano Tegano, diede inconfutabile prova della sua appartenenza alla mafia, partecipando alla famosa riunione di Montalto, un vertice avvenuto il 23 dicembre del 1969 in contrada a Serro Iuncari, a Montalto, in provincia sempre di Reggio Calabria. La vita di Tegano è stata sempre caratterizzata da periodi di latitanza che interrompeva solo quando era consapevole che sarebbe stato scarcerato nel giro di pochi mesi o addirittura di pochi giorni. Nel 1993 aveva fatto perdere le sue tracce ed è rimasto alla macchia fino all'aprile del 2010, quando la squadra mobile di Reggio lo scovò nella zona di Terreti. Da allora è stato sottoposto al carcere duro.